E' accusata di omicidio volontario la trentenne moldava Olga Jacob che dopo il parto aveva nascosto il corpo del neonato in una valigia nell'abitazione dove risiedeva nella frazione di Angellara a Vallo della Lucania. Nella giornata di ieri è stata svolta l'autopsia sul corpo del piccolo all'ospedale San Luca e dagli esami del medico legale Adamo Maiese è stato accertato che il bambino è nato vivo ed è morto in seguito, a quanto pare per lo sfondamento del cranio con conseguenti lesioni alla spina dorsale. In seguito all'autopsia la donna è stata iscritta al registro degli indagati dal PM Paolo Itri. La giovane ha partorito il bambino da sola e ha tagliato il cordone umbilicale con una lametta usa e getta. In seguito al parto le si è verificata una forte emorregia post parto e per questo si trova a San Luca a Vallo della Lucania ma è tallonata dai carabinieri e controllata a vista dal personale medico. La trentenne moldava aver benascosto la gravidanza anche grazie alla corporatura robusta. La piccola comunità di Angellara è scossa e incredula visto che la zona non è abituata a vicende tanto orribili. Fra gli abitanti c'è poca voglia di parlare. La ragazza era conosciuta da pochissimi e non partecipava alla vita sociale del paese. Nessuno si è accorto della sua situazione, nemmeno la famiglia dove lavorava come vadante. Sulla terribile vicenda è intervenuto anche il vescovo di Vallo della Lucania, Ciro Miniero. Dobbiamo fare qualcosa di più per informare queste donne che esistono leggi che tutelano le mamme che non possono prendersi cura delle proprie creature. Il cuore di una mamma dovrebbe vibrare di gioia dinanzi alla nascita del proprio bambino. Invece questa ragazza ha provato abbandono e tristezza dichiarato addolorato dell'accaduto Ciro Miniero, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania.